Oggi vi presento il libro Una carezza nell'anima di Marta Tropeano, edito da NEP Edizioni. Dice l'autrice, questa raccolta di favole non vuole essere solo un libro, ma è un contenitore di progetti percorsi sull'educazione all'affettività e al rispetto delle diversità, all'amore per la natura che ci circonda. Già dal titolo Una carezza nell'anima si può delineare l'obiettivo pedagogico semplice ma profondo di un ritorno all'umanità dei sentimenti. Parole come carezze per cogliere l'importanza dei sentimenti in una società piena di contraddizioni utilitaristiche dove conta ciò che si ha e non ciò che si è, e quindi l'essere, l'io emotivo del bambino diventa il centro di questo libro, dove i linguaggi espressivi valorizzano le capacità e le diversità di ciascuno. Questo libro è Una carezza nell'anima di Marta Tropeano, NEP Edizioni.